Alle 19 di ieri, 28 agosto, due squadre di vigili del fuoco di Verona sono intervenute in via delle Viole a Negrar per contrastare un incendio che si era generato nel garage di un'abitazione. Sono andate distrutte le auto della famiglia e danni da fumo al piano abitato. L'allarme era partito dai proprietari stessi in casa al momento del rogo, che comunque sono risultati illesi.